Musica Presenterò una descrizione e un'analisi dei cantiti e delle feste di San Vincenzo e di San Pietro in Belvento XXXV queste feste, come vedremo, erano molto legate al posto a cui questo manoscritto è la destina sono posti da diversi piccoli brani melodici cosiddette formule messe insieme che si ripetono molte volte durante il canto sono anche caratterizzati dalla ripetizione di brani melodici interi dall'uso regolare delle note sol e la ripetute diverse volte di seguito specialmente all'inizio del canto da molta ornamentazione melodica specialmente della nota sol e dall'uso di solo due diverse frasi conclusive finendo sempre o sulla nota sol o sulla nota l'a queste caratteristiche si possono sentire in un Sanctus benedentano riportato dal manoscritto benedetto 35 che canteriamo ora Sanctus 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 Grazie a tutti. Questa è suddivisa in quattro porzioni che ricorrono in ogni fase di frase successiva. Canterò adesso la prima frase, del troppo, e indicherò le quattro porzioni in cui è divisa. Queste porzioni melodiche sono anche evidenziate nel vostro form. Nella prima porzione la melodia orna la nota solo. Nella seconda, la melodia è un profilo bilanciato che sale e scende a scala, in cui le note il Do e il La sono preeminenti. Nella terza, la nota Sol è ornata da un movimento a scala che evidenzia anche la nota La e Si. Infine, nella quarta porzione, la melodia sale al culmine melodico della nota Mi, e poi scende a poco a poco per finire con la nota Sol. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russus, di cui fa parte. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi, di cui fa parte. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi. Quattro Russi. Cazzeremo adesso il troppo intero, con l'improito Gregoriano del tramito Russi. O sui rischi, domini, superclamum e verus. Colo colo De la pide Ernestia Oso 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.